Il desiderio di parlare con qualcuno che faccia una legge nuova italiana, la legge del giorno come in America c'è il giorno quando festeggiano con Tachino, come stiamo, il giorno del ringraziamento. Io volevo fare il giorno dello sguardo, un giorno solo che si guardino in faccia i padri con i figli, con i nipoti, senza niente, blocco di telefono totale in tutto il mondo, per un giorno a guardarsi negli occhi tutti quanti, pensa che bello che sarebbe, il giorno dello sguardo. Ma io già riguardo abbastanza spesso i miei figli, i miei nipoti, che uso poco questo infernale infernet, come lo chiamo io. Però se lo facessero tutti, sono sicuro che molti bambini scoprirebbero gli occhi azzurri della mamma che se mai non ci avevano fatto caso, sotto gli occhiali, o lo sguardo bello del nonno che non aveva mai visto, o un piccolo tatuaggio che c'è la nonna, non l'ha detto a nessuno. Ci sono giorni che si parla senza queste cose. Intanto il prodigio è quello di stogliere il bambino che è già inguaiato per conto suo da altri guai che possono arrivare. Questo vale anche per l'Italia, non solo per l'estero mondo, perché in Italia se tu fai fare un po' di musica dei bambini che stanno vivendo già una vita brutta per conto loro, li porti, come dico io, come caronte verso i sentimenti buoni. Immaginiamoci l'Unicef che lo fa da 60 anni, 70. Beh, per me ha un significato enorme, mi fa sentire più importante. Io dico sempre ai miei amici dell'Unicef da anni che quando faccio le cose per l'Unicef lievito, mi sento più leggero, io che sto lottando per fare le diete non ci riesco, quando faccio queste cose buone mi sento sollevare.